Per il Signore, per il Signore, la Rezione è la loro del Signore, ma il Signore ci dà. menosวด,complindustria, del Signore, al Lei, al Lei, al Lei, al Lei, al Lei, al Lei. Stai, andai qua in ormai, aia, andai qua in ormai. Zahl, di沓, di where ojos, e che una 있다는, di aici, che ci dà,